Salve a tutti i ricerti e benvenuti in questo nuovo vlog di Natale. Come ogni anno, il video comincerà con l'albero di Natale. In questo video troverete delle chicche, quindi buon divertimento. E beccatevi sto mega albero. Story time. Ho ho ho, adesso vi racconterò cosa abbiamo fatto. Ma che abbiamo fatto? Una f***a. Adesso vi racconterò cosa abbiamo fatto pochi giorni prima di Natale. Ma prima di cominciare sorsergerò un po' di ciascola domanda. Adesso prima di cominciare... Continua, continua. Ho ho ho, adesso vi racconterò cosa abbiamo fatto pochi giorni prima di Natale. Ma prima di cominciare sorsergerò un po' di cioccolato caldo. Allora, siamo stati in un bel posto. C'era un castello praticamente addobbato a casa di Babbo Natale. Pienno di luci, bevi di Natale. Addirittura c'erano degli stand nel quale vendivano tanti articoli natalizi. Decorazioni, bevi di Natale e quant'altro. Allora, durante il percorso abbiamo visto diverse volte Babbo Natale. Infatti c'era un posto, o meglio una stanza proprio addobbata a stanza di Babbo Natale. Con la scrivania, il camino e altre cose che facevano capire proprio che fosse casa. Anche addirittura per le lettere dei bambini, scritte dai bambini. Eppure quello è stato molto bello. Poi c'era una persona che praticamente batteva monita, la poniava con un martello molto pesante. E io essendo anche un collezionista di monite, ve lo sapete, non ho perso l'occasione per poter battere monita. Come vi avevo detto, adesso io mostrerò le foto per far vedere quello che abbiamo fatto. La stanza, o meglio, lo stanno aggiustando. Però spiegami perché stanno aggiustando. Perché, aspetta. Spiga, spiga. Lo stanno aggiustando perché c'è il c***o tutto. Allora, guarda già che tanto, la seconda dita. Fammi vedere, pari suonare due anni. Oh, no, a te. Vedi. Ah, è stato proprio giusto, ha visto proprio la buona, non ho sentito. Ah, non ho sentito, ho visto proprio l'istante. Non ho sentito. Non ho sentito. Non ho sentito. Devi vedere, metti la giaccia, si gove, dove si strisce il cuore. Fai, non ho sentito, non ho sentito. C'è la tua cosa a te, non ho sentito. Non ho sentito. Ma c'era due minuti, ma c'era quasi un'istante. Che ci sono? Beh, è. Ma benissimo, è sfilata così, a c***o. Stai davanti. Si dice, mollo, dar collo, mano, mollo. Stai davanti. Quanti, quanti, quanti. Non c***o, senti davanti. Quanti. Non so. Non so, non so. Allora, vada di nuovo, non riesce a salire. Non riesce a salire. Non riesce a salire. Non riesce a salire. Già, sei niente a mangiare? Essi solo, essi solo. Non riesce a salire. Poi, papà non dai. un amico il cervello sta mangiando ti sarei muto? sei muto stasagavol 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 sd c'è 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 c'. riprendi tutto riprendi tutto riprendi tutto oh Vabbè guarda freddo e cos'è questo video vi sia piaciuto come sempre lasciate like commentate condividete e buone feste una festa a tutti